La fortuna con te Oh Eh vabbè Eh vabbè Tu puoi selezionare una carta per esempio vedi cosa selezionatore non puoi dirmi tipo la terza la quarta da sinistra tipo tu che colorai sulla sinistra aspen che senso sulla mia sinistra il rosso ai su che al lato e al mio sinistra che invece il 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 rosso da che lo trovai sulla mia sinistra ok ok nel gioco intelligente il gioco bravo dunque siamo un po perdendo vediamo subito i 200 punti o poi 70 o prego ok scambio carta non lo so che possiamo fare ma le regole quelle sono sempre disattivate no senza il 70 o santo dio galaxy assolutamente no ma forse ho sbagliato ho sbagliato per te ho sbagliato 25 per cento sbagliare 75 per cento giusto vediamo che mai che fare no non farlo ecco la rossa della fatta aveva gialla ma lo dice che avremmo se con me o con i torri ma vedi che non ce l'aveva per esempio tu hai ora meno carta ok ah ah ma non è giusto però mongoloide di maria sempre tira il giro verso il botte che è un attento bre di prova a procurare una carta ha già solo una faccia la galaxy ma è bella strategia con lì io pure procura punti esatto dai che lì inculiamo alla fine ok che devo stare zitto mi sa però vediamo vediamo galaxy vediamo allora dobbiamo cercare di fermare perfetto che avrete la fermo credo è un po silenzioso mi piace non aveva un p4 ah ah ho sbagliato tasto ok non devo non devo parlare più d'altro caso ok non devo parlare Questa settimana avevo vinto il primo turno Che che avrei preparato? Oh Un po' musica, un po' azione all'improvviso Bella, ok Ok Ma dire Oh L'ha detto Gabriele Dobbiamo fare il problema L'arma Oddio Easygame Rosso Oh, è tutto di nuovo Oddio Questo easy game Ma che easy Nooo Cioè, non doveva fare niente Gordey Non doveva fare niente Sai che fortuna Ma Gordey non so giocare per la squadra Sì Sì, ma non è aperto lo sbocco E' già No, già aveva rossa Ok No problem Ah, no problem Com'è Easy Perfetto Perfetto Fatti intelligenti No Sbagliato 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 E lo so Non è spuntato Perché l'ho premuto Ma non si è fatto Non si può fare Dopo Almeno io lo posso farlo Prima Sbagliato 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 Vabbè, io avevo tanti 0 Quindi forse 30 punti messi insieme Orse quanti punti del compagno Forse quanti punti del compagno Ah, questo sarebbe buono sapere se c'erano fare bodycarts. Ok, ombre, sai la mia ruola, io se faccio supporto. Eh, per esempio ora vorrei creare di essere intelligente a fare queste cose. Ok, io avrei il quattro. A proposito si poteva salvare in casa, una carta a me. Ah, perfetto, perfetto, snook. Ah, sai che faccio che apre il supporto. Vai, tu ti salvi con le carte bonus. C'è un po' di così, così ti tracchieni con le carte, è utile. Ah, perfetto, forse vincontare io. Ah, ma perfetto. Ah. Andiamo? Ah, ok, so per dire, forse so, te lo devi lasciare, ma no, non prova. Ma è fatico di merda. Ma è fatico di merda. Easy. Easy, easy. Ordei, puoi urlare quanto vuoi, ma ormai non cambia. Stronzo. Ah, ma easy. Oh. Lischiamo. No, 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 no. Vabbè. Due lui e una tua. Oh, che avresta che fare. Lo so, lo so. Vediamo. Va. Eh, zium. Ecco cosa. Zium. Ok, tu avevi 7-0. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ehi, la chiesa. Che vuoi? Vai, vai, a letto, vai, va. Che vuoi? Non fango niente, io sto bene. Vai. Sul porto di nuovo, Gabriele. No, Galaxy. Che è? Posso? Oddio, Galaxy, l'ho tirata all'ultimissimo secondo, mi si è spento il gioco. Eh, in fondo avevo un sacco di zero io, eh. L'ho partito scorsa. Scusa, l'ho partito. Scusa. Scusa. Supporto? Oh ma perfetto Oh Gabriel La combo La 1-2 swap galaxy combo Alla Gabriele Quelle delle due aspetta Gialla La combo Punti extra Gigi Mi dispiace Punti altri Ah vero 15 Vabbè Cambiamo squadra Cambiamo squadra